Grazie a tutti 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 Buongiorno amici di Spazio J, siamo in diretta fuori dal J Medical per raccontarvi live l'arrivo di Federico Bernardeschi per la visita medica alla Juve Già i primi messaggi per Bernardeschi fuori dal J Medical, uno striscione che fa capire molto bene l'idea sul numero di maglia della Juve la 10 non può più stare senza padrone, benvenuto Fede, vincere è la nostra missione con tanto di maglia e intanto sta arrivando ecco qua ce l'abbiamo noi Fernandeschi ce l'abbiamo noi! Ho in questo tempo. Già, già, già! Non so la foto, voi! Entra qui, entra! Voi, vai, entra! Va, che fa l'escovo! Grazie a tutti. E' arrivato Federico Bernardeschi, grandissimo entusiasmo per l'arrivo dell'ex numero 10 della Fiorentina, tifosi invisibilio, e ora il solo dubbio sulla maglia, dubbio che ve l'ho svelato a breve. Un saluto dal J Medical, seguite Spazio J per approfondimenti e news sulla giornata di Federico Bernardeschi.